Andrea Tacconi, papà sta a camminare. Un'emozione unica. Colpito dalla rottura di un aneurisma cerebrale lo scorso 23 aprile, l'ex portiere Stefano Tacconi dà qualche segno di ripresa. Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica, ad annunciarlo via sociale è il figlio dell'ex numero una della Juve della Nazionale, Andrea Tacconi. Stefano Tacconi è seguito dai medici dell'ospedale di Alessandria dopo il trasferimento dall'ospedale di Asti dove era stato ricoverato in emergenza per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Inevitabili e numerosi i commenti social alla notizia positiva, attesa da tempo. La più bella che oggi avrei voluto sentire e scrive Rocco. Campioni come Stefano Tacconi sono invincibili. Per i cuori bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostro Stefano in piedi. Alessia è convinta del fatto che non potesse essere che così, era ed è una roccia.